Allora, ripetiamo questo piano per l'ultima cazzo di volta, alle 16.30 appuntamento al mercatino orionale Siamo lì... Cosa dobbiamo comprare, scusa? Io niente, te? Niente Perfetto, poi dopo di che prendiamo e ci spostiamo alle 18.30 al Pigneto dove c'è un vernissaggio di alcuni amici miei Ma da quando si andava a vedere vernissaggio? Scusa, la galleria d'arte Qual è il problema? Non capisco A te interessa l'arte? No, assolutamente Nemmeno a me Poi ci dobbiamo catapultare subito a Palladium che c'è la prima di un film Che film? Che domande fai Luca? Non lo so, che film non è importante perché noi tanto il film non ce lo vediamo Non ce lo vediamo Perché noi prendiamo e ci catapultiamo al circo di RTC Dove alle 10.30 abbiamo appuntamento con Betaniecci al concerto dei Pug Bottoms Poi, a mezzanotte cascasse il mondo, dobbiamo stare a casa di Bisozzi e il Padovano perché fanno una festa Ci vogliamo due cose, facciamo due chiacchiere con delle straniere E poi alle 1.30 andiamo... A casa Prendiamo Betaniecci e ne andiamo al Go No, no le prego Luigi le prego La Tecno no La Tecno no 85 euro a testa Quanto? 85 euro? Guarda quante cose fai Ma che è capodanno Ma vai in vacanza vai Ma che bordino Un giorno t'ho acquittato la vacanza T'ho acquittato Comunque, tutto è il piano già deciso, tutto perfetto Possiamo sincronizzare gli orologi per favore? 3, 2, 1, ok Uinti Giulio Senti Luigi, guarda va bene, va bene Lo facciamo, lo facciamo Però prima se favamo una canna Sì, dai Ma no, non esiste proprio Sì, dai Ma non la devi girare Guarda un po' che c'hai qua E' già dentro di te Eh? Dai Vabbè ma Però faccio due botti io Che anno io però Accenno io Ma come la faccio? Ho girata io Sì. Mattia Lu Ma andavate uscire? Stavolta c'eravamo quasi riusciti Non dormi e poi ce li provocherete Ce li provocherete sempre Sì sì dai io Buonanotte Principe dei giardinetti E il re del nuovo casilino Non ho la doppia di un'altra volta Che cazzo di rimastini seriali sono? Vediamo vediamo col cazzo Col cazzo con le patate Vediamo Grazie 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 Grazie